il napoli è impazzito completamente e per impazzito completamente intendo dire che pare che il mercato stia entrando nel vivo e questa cosa è veramente incredibile perché ci siamo sorbiti gli ultimi 20 giorni di altre squadre che si muovono che fanno cose noi non stiamo scegliendo gli arrosticini da vendere a castel di sangue non lo so quali fossero le nostre intenzioni fatevi salutare ho l'ermanito sono gia 7 quello che tiene le tette le racchette la lavagnetta le rocchette non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta youtube italia e benvenuto in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato parliamo di voci di mercato e facciamo il punto sul calcio mercato come ogni mattina alle 7 di mattina dal lunedì al venerdì poi quando ci riusciamo anche il sabato la domenica ma è più difficile ma dal lunedì al venerdì guai genuista macca e facciamo punto coppo calcio mercato che bello punto coppo calcio mercato teniamo la nostra rocchettina fidata e dobbiamo parlare delle varie notizie che sono uscite come sempre ragazzi io mi faccio aiutare dal mio fidatissimo alessandro di napoli report ale di napoli report rocchettina sorso idratatevi ragazzi sono le 2.56 del mattino questo è l'orario perfetto per idratarvi così vi ci vedete durante la notte fate tanta pipì allora ieri abbiamo parlato della questione giuntoli sembra essersi evoluta sempre in quella direzione giuntoli andrà alla juventus in napoli andrà incontro ad una soluzione interna che vi posso dire la verità ragazzi mi fa un po ridere perché questa è una situazione che fa un po ridere poi magari sarà bravissimo può essere anche il nuovo sabatini e per me ragazzi sabatini è il calcio cioè abbiamo c'è gente così libera noi potremmo andare su quella gente lì e invece no preferiamo andare sulla soluzione in famiglia che è una cosa che a me non piace ripeto non per una questione di competenze per una questione proprio di meritocrazia perché sbagliato ragazzi secondo me è sbagliato poi la società è di aurelio dell'aurentis aurelio dell'aurentis giustamente fa quello che vuole ma oggettivamente non è proprio il massimo ragazzi non è proprio il massimo si parla di sinicropi che dunque figure a lui come di essere sinicropi chi è sinicropi è il compagno della figlia di aurelio dell'aurentis è il compagno di valentina e anche qui io parlo della questione messaggio non è un bel messaggio che mandi che tu come di essere a prendere uno del genere anche perché il di essere secondo me è importante che abbia dei rapporti perché quante volte vi ho detto che il ds non è quello che scopa i giocatori perché quello che quello che quello che quelli che scopano i giocatori sono gli scout poi magari il ci può essere il ds che fa anche da capo scout poi solitamente nelle grandi società c'è anche il capo scout che è una figura differente dal ds c'è il direttore dell'area tecnica ci sono mille mila altre cose invece il napoli preferisce tenere un profilo un poco più basso meno gente non so per quale motivo però secondo me non è la migliore delle scelte come ha detto anche però rudy garcia il reparto sportivo del napoli lavora molto bene più volte vi ho detto che i veri punti forti del napoli sono micheli e mantovani che sono i uomini di aurelio dell'aurentis e poi c'è santoro che è veramente molto bravo che è il team manager diciamo questi tre secondo me sono veramente dei top player del napoli però è importante che il ds tenga le tenga le rating della squadra che tenga i rapporti perché il ds deve tenere rapporti con le altre società questa è una cosa fondamentale perché i rapporti ti aiutano a chiudere le trattative perché ragazzi dovete capire che molto spesso nel mondo del calcio tanto è anche l'amicizia tanto è anche la relazione tanto è anche il rapporto che quindi ti fa far progredire la trattativa in maniera liscia perché molto spesso che succede io faccio l'offerta troppo bassa parte dall'altra parte il maschio alfa che deve fare il tipo più forte che quindi io ti faccio la richiesta ancora più elevato oppure io ti mando a fare in culo e non ti faccio più fare e non tratto più conti perché queste cose sono fondamentali poi ripeto magari sinicropi sarà bravissimo però ci sono tanti direttori bravi proprio come sabatini che per me sarebbe l'uomo perfetto perché andare per la soluzione interna che di meritocratico non ha assolutamente niente io spero che non sia una scelta di aurelio dell'aurentis per diciamo avere uno yes man uno che tu prendi il compagno di tua figlia a fare il ds vuol dire che sai che non è che lo vai a licenziare non è che ti va a dire chissà che cosa contro di te che non è d'accordo però vabbè questo per quanto riguarda la questione ds spero di sbagliarmi perché non è detto che sia così non è ancora ufficiale ci sono delle notizie riguardanti victor osimen che provengono da alfredo pedulla in caso di offerta faraonica e aspettando sviluppi sul rinnovo osimen preferirebbe la premier tutta una cosa che noi ovviamente già sappiamo ma lo sapevamo dal momento in cui è arrivato lo sappiamo di qualsiasi giocatore che non dica espressamente io preferisco la sera perché tutti quanti preferiscono la premier ma il pari saint germain potrebbe offrire i famosi 120 c'è una torrente famosio cazzo che è un esempio di 150 più bonus manchester united e celsi in attesa io sono quasi convinto che al celsi non ci andrà perché è una squadra che non fa la champions league non fa le coppe soprattutto non fa la champions league tu hai raggiunto ormai un livello uno status che la champions league la devi giocare ogni anno poi per quanto ti possano riempire di soldi però secondo me osimen non andrà al celsi ecco qua osimen sicuramente andrà al celsi manchester united già più credibile anche perché lui più volte ha sostenuto di tifare manchester united siamo all'inizio l'offerta deve essere indecente con quei soldi napoli potrebbe investire 60 milioni su jonathan david di cui aveva parlato ieri già luca di marzo e su questo argomento di alfredo pedulla ci ritorniamo ci ritorniamo più tardi e ci ritorniamo proprio su questo argomento qua che poi avrà un video dedicato perché ragazzi è un mio da pupillo un pupillissimo un pupillissimo parliamo di un giocatore straordinario un giocatore un talento generazionale lo dico un talento generazionale a tutti gli effetti il napoli cerca di non mollare per gabrie veiga cioè quando parlavo di gabrie veiga al napoli su instagram e su twitter l'ho sempre fatto con un po' con aria per dire abbiante non può mai succedere e ci fatta nanna sperare nella nella retrocessione del celta vigo per poi andarlo a prelevare con più facilità comunque a una clausola di 40 milioni di euro il napoli è pronto ad arrivare a 30 35 l'unica società al mondo che ci sta la clausola e poi va a fare l'offerta più bassa della clausola se ci sta la clausola vuol dire che molto probabilmente a meno che poi il calciatore non vada a fare pressione è quasi impossibile che la società te lo venda poi magari mi sbaglierò il napoli riuscirà a prendere un giocatore addirittura a un prezzo inferiore a quella che è la clausola sarebbe un colpaccio incredibile per me anche la clausola è un prezzo giustissimo i 40 milioni sono un prezzo giustissimo dipenderà da quello che vorrà fare il giocatore il napoli attende e parliamo ragazzi di una roba non di poco conto e questo chiaramente significherebbe che se rischi va via perché gabriega se viene viene a fare il titolare non penso che zirinski abbia intenzione di fare il comprimario slash secondo perché gabriega soprattutto uno un investimento del genere due un giocatore del genere non fa la panchina mai è vero che nelle grandi squadre giocano tutti nessuno è sostituto nessuno è titolare come dice spalletti ci sono i titolari dei 60 e 65 e poi i titolari dei 30 e 25 come giusto che sia soprattutto con i cinque cambi ma ragazzi gabriega sarebbe un qualcosa di incredibile di incredibile il solo pensiero tra l'altro l'ho messo lì dietro perché mi casa veramente tantissimo il solo pensiero di pensare a gabriega a napoli tra l'altro questo è quello che volevo dire di marzio dice sta cosa poi l'ongari di sport italia dunque il un uomo di pedullà il napoli con giusto qualche minuto dopo il napoli continua ad avere nel mirino gabriega una pista una pista che partenopeia hanno intrapreso ad aprile con giuntoli e che stanno cercando di perseguire anche con la nuova struttura praticamente già dicendo che giuntoli non sarà più non sarà più a napoli e tra le altre cose c'è stato anche un c'è alfredo pedullà ha fatto un po' ha creato la sua gioconda odia di marzio qualsiasi cosa faccia o dica di marzio lo sminuisce poi che fa di marzio dice una notizia prima di lui pedullà gliela copia e riesce addirittura che ragazzi poi magari sarà una notizia anche sua però oggettivamente che tu te ne esci un quarto d'ora dopo cinque cinque minuti pare veramente che hai scopiazzato e dice gabriega napoli una rincorsa che inizia ad aprile come per dire io lo so da prima di te veramente è una mosso veramente un colpo basso che ha poco senso e questo per quanto riguarda gabriega che approfondire approfondiremo in un altro video perché merita un video dedicato il buon il buon gabriega e poi abbiamo una notizia invece che per ciò che concerne le cessioni nella lista di maurizio sarri oltre a berardi ci sono altri nomi un profilo che piace quello di matteo politano valutato circa 15 milioni di euro vedremo gli sviluppi di sicuro il nome va tenuto in lista per rinforzare la Lazio diciamo qua è un discorso un po particolare perché comunque politano è molto legato al napoli io penso che nel caso in cui partisse sia più probabile vederlo all'estero perché tra l'altro non tiene pure il tatuaggio del napoli non lo so io queste cose le vedo un po particolari poi che accadono tutto può succedere c'è cola robopure da roma la lazio abbiamo visto con tutti i tatuaggi e cose lo sappiamo che può succedere veramente dalla lazio alla roma chiedo scusa può succedere veramente di tutto nel calcio l'abbiamo visto con i guain l'abbiamo visto con sarri però questo che significa significa che il napoli ascolta offerte anche per matteo politano 15 milioni secondo me sono una cifra più che congrua a me politano piace nel caso in cui prendessimo un titolare molto forte per me potrebbe anche rimanere però secondo me ci sta fare una rivoluzione totale sul sulla fascia destra a partire ovviamente da lo zano che va assolutamente ceduto sarebbe sicuramente un qualcosa di interessante perché se c'è qualcosa poi che puoi andare effettivamente a spostare quello e soprattutto in attacco sulla parte destra perché lì che tu devi migliorarti che devi fare il passo in avanti che devi dimostrare di essere una squadra forte forte e mandare un messaggio a tutto il campionato e spero assolutamente che il napoli lo faccia facendo dei dei colpi mirati sono sicuro che rudy garcia non starà lì a guardare che rudy garcia vorrà una squadra il più completo possibile già nel momento in cui inizierà il il primo ritiro che dovrebbe essere a dimaro poi il secondo dovrebbe essere a cassel di sangro come negli anni scorsi quindi speriamo bene che il napoli si muova bene sono sicuro che rudy garcia ripeto he's gonna put his foot down si dice in inglese che lui mette il piede a terra sbatte il pugno sul tavolo e dice bisogna fare le cose come dico io è giusto ed importantissimo che ci sia un uomo del genere dentro al napoli detto ciò ragazzi mi raccomando fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete facebook instagram twitter tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche i g7 shorts il mio canale pubblico teleclippi momenti iconici momenti divertenti del canale tiktok preferiti noi ci vediamo la prossima volta sempre con tutta l'altra forza napoli ciao ciao ciao